I ragazzi C'è valide Bori yanno Samiyansuansu Ti zimba mamal Fa mbou lama ninu nash Bori yanno Tata kanivab Rera kanisayn Nefa zimba mitajayn Fa mtetzi nina lojan Sufi narew Muti mayen ta ni mutaka Ude varina mandrevirefi Yewambu njan putaka Mbato ngabasayna omsay Famopala yele wana kais Kesurile sesina malel Ngele nafa Lifa mamai Atiungura mura wangu wangu Fatima nana wafzala Ha fachai ania Faisi baka fa Oh 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 vieni Oh oh vieni Oriyano Fa toto kammam eyalandati Numbafisututur narew Oriyano Fi in artisikiyarat Situ markiazai chuchu anarew Fa' me tabulin alo Very An umasunarew Nutsima iti za izurana Nude vagina manisa kap Manisa ikitana si fulana Matunga vai sai na om sai Fama pala el wana kai Esu le sensi na male l'ingel na va Fama mai Atifu huda muda wangu wanti Fatima nana wafu sara Afa chayani ya Fatima kafa Nesakia Sanja Kikyo Sema hitam ba mme Seti um tiyeru miyayam Ak se tiki manche mbam teaa Kariwa tea teaa keno sadzendine. Nesakia nase rangade. Tega ashean Sa wana uyan Mbapa la el wana kaa Oriyano Toa kanju mea jafeta naman Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti